Questa è una cosa che la può aiutare, no? Perché tu sei il fratello e sei stato, e stai malissimo ancora, per una mamma sicuramente è più doloroso. Senti, questo ulivo bellissimo che hanno dedicato a tuo fratello. Sì, prima di aver ulivo volevo approfittarne perché io ho perso da pochi mesi papà. Ah, che so, non lo sapevo e mi dispiace tantissimo. Ci tenevo a dirlo perché comunque papà non ha mai sfogato realmente tutto quello che era successo. Perché diceva che lui non poteva crollare per mia mamma e per noi, però alla fine non ce l'ha fatta lui. Quindi ci tenevo a dirlo. Tornando a lui, io invece, è una cosa che poi è stata piantata a Casavatura, voluta da noi, familiare, voluta dall'associazione Dario Scherillo, creata da noi, come simbolo di lotta alla camorla in un territorio non semplice come quello di Casavatura. Senti, oggi mamma è sempre partecipi a tutte le iniziative, nonostante il non accettare la mancanza fisica di Dario perché l'ha fatto diventare un'energia, è parte di sé. Cosa c'è di recente? Stasera vedremo la proiezione del film, questo non è un film dove ci sarai tu, ci sono tanti altri. Questo è servito anche a far conoscere meglio, con dei piccoli passaggi, le storie di un po' tutte le vittime. Sì, il nostro obiettivo è questo. Io vado a parlare settimanalmente in varie scure e lo faccio perché credo che sia giusto conoscere la storia, non solo di come sono morti, probabilmente le varie vittime nocenti di camorla, ma quali erano i loro sogni, le loro speranze, i loro progetti. Perché c'è una frase che viene detta spesso in Sicilia, dedicata a Borsellini e a Falcone. Questa frase io l'ho fatta mia per Dario, per esempio tutti i sogni di Dario, tutti i progetti di Dario vogliono e devono camminare sulle mie gambe e sulle nostre gambe. Certo, perché non essendoci più, però tutto ciò che era un suo desiderio, un suo volere, farlo realizzare attraverso quello che sei tu e tutte le persone che come te sono impegnate. Se tu oggi potessi dire qualcosa a tuo fratello? Me lo chiedono spesso i ragazzi nelle scuole. Vabbè, non so più tanto ragazza, però te lo chiedo lo stesso. Guarda, ti sembrerà assurdo, noi siamo un po' particolari come esseri umani. La cosa che faccio tra l'altro, ma la cosa che voglio dire, vorrei dire a Dario per l'ultima volta, ti voglio bene. Purtroppo noi, questa è una parola semplice da pronunciare, però che diciamo pochissime volte. Però è questo. Vuoi voler bene, cioè ti voglio bene. Ti voglio bene, sì. Ma tu pensi che tuo fratello in qualche modo non lo avverta anche con tutto quello che fate? Sì, sicuramente, però lo sai qual è il problema? Fra di noi non ce lo diciamo mai, né fra marito e moglie, dove vengo accusato da mia moglie su questa cosa. Villo pubblicamente adesso a questa telecamera. Ti voglio bene. Francesca. Francesca. Però è una parola così semplice, però non la diciamo, perché la diamo come scontata. La diamo come scontata e a volte ci imbarazziamo, è la cosa più semplice. Cioè è assurdo, se uno ci pensa, è assurdo imbarazzarsi nel dire questa semplice parola a una mamma, un fratello, una sorella, a una moglie. Però è una cosa bellissima. Proprio a proposito di parole abbiamo delle lettere che tu porti su di te, no? Tu così contrario ai tatuaggi, alla fine hai deciso di fare qualcosa che sarà con te sempre. Sì, io come ho detto prima, voglio che pretende tutti i progetti, tutti i sogni, tutte le idee di Dario camminino sulle nostre gambe. Dario che cosa vuole fare? Dario vuole fare un tatuaggio. Io invece come fratello maggiore l'ho sempre impedito di farsi questo tatuaggio, perché dicevo ma che devi fare? Era vecchio, sta cosa appesi, il tatuaggio appeso. Oggi invece ho un tatuaggio. Tra l'altro mi è stato un particolare perché mi è stato tatuato da Gianluca Ciminello, amico di Dario all'epoca, però purtroppo anche lui vittima innocente della camorla. Dario amava la motocicletta. Io per questa cosa mi sento in colpa perché Dario è morto alla fine per uno scooter che era molto simile a quello dello spacciatore. proprio perché io dicevo no, la motocicletta è pericolosa, si può correre troppo. Oggi io ho una motocicletta perché quando vado in moto è come se fosse Dario e con me in moto. Ciclete in queste cose... Diciamo qualcosa che serva a chi si trova a vivere la tua situazione. Qualcosa che serva a lenire il dolore in qualche modo. Innanzitutto di unirsi alla famiglia. La famiglia che noi abbiamo costruito anno dopo anno come quella di Libra, ma specialmente a Napoli quella del coordinamento campano di vittime innocente. E mi fermo qui perché c'è una distinzione, fanno spesso una distinzione fra vittime innocente di camorla oppure vittime innocente di criminalità comune. Per noi invece sono vittime innocenti, punto. Quindi innanzitutto di unirsi a noi perché noi quando stiamo insieme siamo veramente una famiglia e stiamo bene insieme. Perché anche senza parlare ci capiamo a volo. Quindi innanzitutto questa cosa qua. E poi trasformare, se ce la fa, chiaramente ogni persona ha dei suoi tempi, trasformare il proprio dolore in impegno civile. E proprio a proposito dell'impegno civile, magari detto da te che hai perso un fratello veramente non colluso con camorristi, scissioni con niente, che era lì per fare il suo lavoro, anzi andare oltre, proprio essere super preciso, attento. Io vorrei che tu invitassi le persone, noi siamo una web tv di denuncia perché abbiamo scelto questa linea. E vorrei che tu invitassi le persone che vivono delle condizioni dove sono afflitti e costretti da mafia e camorre a avere il coraggio di denunciare. Perché se si denuncia, se si dà voce, se si va contro la camorra, forse, come dice anche Don Ciotti, uniti e con una sana follia riusciremo anche a vincerla. Sì, perché solo assieme si può praticamente lottare, combattere e vincere contro la camorra. La camorra sfrutta le nostre paure, le paure delle persone. Però quando queste persone si riuniscono in associazioni, faccio riferimento tipo l'anti-racket, l'usura e tutto, poi sono loro che fanno un passo ridio. Mentre loro vanno proprio a sfruttare le persone deboli perché non hanno la forza di reagire e di combattere. Io ritengo una cosa importante di questa città di Napoli. La voglia di questa città di cambiare è tanta e si è capita con le elezioni fatte prima di quest'estate, nominando, praticamente votando come sindaco di Napoli, un magistrato. E questo secondo me è un segnale fortissimo che la città di Napoli ha dato praticamente a tutta l'Italia. La voglia di voler cambiare. Una volontà vera. Sì, veramente una volontà vera. Senti, io vorrei chiudere, tu hai nominato il nostro sindaco, vorrei chiudere con un aneddoto che mi hai raccontato prima. Tua madre ha incontrato il sindaco e tra l'altro se l'ha abbracciata in maniera veramente affettuosa, cioè da fiolo. Che cosa tua mamma ha detto al sindaco, mostrando una foto di Dario che tra l'altro abbiamo anche noi qua, insomma. Si è notata questa rassomiglianza con il nostro sindaco. Raccontalo tu, insomma, che è stata carinata. Sì, mamma ogni volta che vede De Magistris si commuove, perché dice che la sindaco di Napoli assomiglia moltissimo a mio fratello. Ed effettivamente è un po' lo richiamo. C'è una rassomiglianza. Sì, e quindi si emoziona tantissimo. Oggi? C'è una rassomiglianza.